In una panetteria del Cossatese sono stati sequestrati 200 kg di farine invasa da parassiti e sequestrati macchinari danneggiati per un valore di 12.000 euro. I lavori sono praticamente ultimati, confermato l'inizio dei traslochi già a partire dalla fine di quest'anno nel nuovo ospedale di Biella che aprirà nella prima metà del 2014. Lo spazio politico accossato rimane sbilanciato verso la Lega Nord dopo le dimissioni dal PDL dei cinque consiglieri di maggioranza. Grande soddisfazione per gli organizzatori di Pollone dal cielo, grazie al bel tempo sono state migliaia le persone accorse in Valle Elvo per la terza edizione della festa. A salire sul gradino più alto del podio del terzo rally storico Lana sono stati i biellesi Davide Negri e Roberto Coppa, tantissimo il pubblico presente sulle strade per le prove speciali. Un cordiale buongiorno e un benvenuto a quest'edizione in diretta del nostro telegiornale, un'ampia pagina di cronaca per iniziare. Un panettiere di 60 anni è stato denunciato poiché dopo un controllo dei NAS di Torino all'interno del suo forno è stata trovata farina variata e macchinari per la produzione del pane danneggiati. Sentiamo la cronaca di Elena Rovero. Un uomo di 60 anni, residente del Novarese, è stato denunciato per detenzione ai fini di somministrazione degli alimenti in cattivo stato di conservazione ed è invasato ai parassiti dai NAS di Torino. La prequisizione è avvenuta nel Cossatese nella giornata di sabato, a seguito di una richiesta dei carabinieri della zona interessata. I NAS hanno posto sotto sequestro ben 200 kg di farina di vario genere, che era conservata in sacchi aperti direttamente appoggiati sul pavimento, invasati da parassiti e altri corpi estranei di colore scuro. È stata sequestrata anche un'intera linea di produzione del pane, poiché i rulli in stoffa con gomma piuma che venivano utilizzati per trasportare le forme di impasto dirette al forno per essere cotte, erano talmente danneggiate da rendere probabili che parti di gomma piuma finissero in mezzo all'impasto stesso. In più anche tutta la parte meccanica era danneggiata, infatti le maglie metalliche del rullo erano state riparate con del fil di ferro, con riparazioni a dir poco sommari che rendevano pochigienico il trasporto dell'impasto. I beni sequestrati ammontano 12.000 euro. Ed ora una notizia che arriva dalla Valle Cervo, un ragazzo di 25 anni di Sagliano Micca e uno di 24 anni di Andorno sono stati denunciati per furto gravato in concorso dai carabinieri di Andorno Micca. I due malviventi, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono entrati in un bar e hanno portato via alcuni oggetti come una scala a pioli, una macchinetta del caffè e hanno danneggiato una pesa elettronica. Nel frattempo il sindaco del paese ha visto all'interno del negozio i ladri e ha chiamato i carabinieri. Mentre i due si davano alla fuga è iniziato l'inseguimento. I due giovani hanno preso una stradina secondaria dove hanno lasciato la refurtiva nei pressi di un cassonetto dell'immondizia, non si sa se per abbandonarla definitivamente o se per poi recuperarla in un secondo tempo, poi hanno preso la strada provinciale dove sono stati bloccati dai carabinieri del paese. Un'altra notizia di cronaca che non è di certo usuale nel Biellese, non tanto perché un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test ed essere fuggito all'alta dei militari, ma perché alcuni passanti hanno ostacolato i carabinieri e le forze dell'ordine. Sentiamo il racconto. Un uomo di 34 anni, Rocco Morano, residente a Cerrione, è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento per resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto sottoporsi all'accertamento sullo stato d'Ebrezza. Tutto è iniziato in via Uremo a Biella, nella notte tra sabato e domenica, quando una pattuglia di carabinieri ha fermato una BMW al cui volante vi era un uomo evidentemente ubriaco. Dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test, il 34enne ha avuto uno scatto d'ira e cogliendo di sorprese i militari è salito a bordo dell'auto e si è dato alla fuga verso Chieppo. Allertati un'altra pattuglia, i militari sono riusciti a bloccarlo all'altezza della rotonda per Pollone. Qui però è accaduto l'impensabile, degno di un film su gangster americani ambientato negli anni 20. Un gruppo di passanti, non identificati, è intervenuto in difesa dell'ubriaco, cercando di ostacolare l'operato dei carabinieri. Solo all'arrivo di un'altra pattuglia di militari e di una della polizia, le persone di intralcio alle forze dell'ordine, circa una decina, si sono disperse, consentendo così ai carabinieri di trarre in arresto l'uomo. Una notizia più leggera che coinvolge di riflesso anche il biellese, l'amore non ha età, soprattutto in una suggestiva cornice come quella delle spiagge di Spotorni in Liguria. E' questo che deve aver pensato una biellese di 78 anni in vacanza nella zona, che si è infatuata del bagnino di 20 anni dello stabilimento balneare che frequentava. Il gestore del bagno però l'ha denunciata per stalking quando si è accorto che i comportamenti della donna erano diventati veramente ossessivi. Infatti col suo atteggiamento metteva in difficoltà il bagnino, al quale impediva di fare attenzione al suo lavoro e ha deciso di intervenire. Le avance della turista sono iniziate lo scorso anno e con il passare del tempo le sue attenzioni si sono sempre fatte più insistenti. Prima gli sguardi, poi le carezze e poi i biglietti sul parabrezza dell'auto del bagnino. La donna è stata quindi denunciata per fare in modo che le venga così impedito di frequentare lo stabilimento. Abbandoniamo la cronaca, veniamo ai fatti del territorio. Infatti grande presentazione sabato a Cittastudi del nuovo ospedale di Biella, una struttura che si presenta ormai ultimata e che verrà consegnata prima della fine di quest'anno. Vediamo le prime immagini riprese durante la presentazione ufficiale. Sabato nell'auditorium di Cittastudi, grande presentazione del nuovo ospedale di Biella, un convegno scientifico organizzato per prendere consapevolezza della grande opportunità che offre l'apertura del nuovo ospedale dal punto di vista sanitario ma non solo. La struttura si presenta ormai ultimata, dal tetto si possono delineare le zone destinate al parcheggio, le rotatorie e le strade che collegheranno il nosocomio alla viabilità. Un atrio molto esteso richiama l'architettura tipica di un aeroporto, mentre le colorazioni vivaci delle pareti rendono piacevoli gli spazi. Camere da due persone con bagno in stanza permettono una maggiore qualità dell'adegenza e una migliore riservatezza dei ricoverati. 13 sale operatorie, di cui alcune ad alta specializzazione, elevano lo standard delle operazioni e consentono interventi anche molto sofisticati. Il pronto soccorso dispone di un'area per lo scarico degli utenti ampia e al data. Adiacente al pronto soccorso, trova invece spazio la rianimazione e un polmone per le grandi emergenze con decine di feriti. Un ospedale che si è tenuto a sottolineare sarà dei biellesi, con un investimento da parte della fondazione Cassa di Risparmio di più di 20 milioni di euro, finalizzati all'acquisto delle più avanzate strumentazioni mediche e sanitarie. Un migliaio i posti auto disponibili per gli utenti, nota dolente, sembra saranno in larga parte a pagamento, ma si precisa a tariffe calmirate. Evidente la necessità di potenziare e ripensare al trasporto pubblico. Stazione e ospedale richiederanno un servizio navetta valido ed efficiente, non proprio la situazione attuale. Ora sembra veramente tutto pronto, la scatola è ancora vuota, ma i primi traslochi saranno possibili già nel mese di dicembre 2013, per poi completare il trasferimento del degli infermi entro la prima metà del 2014. Intanto nell'attesa circano già le prime indiscrezioni sull'intitolazione, probabilmente sarà dedicata alla Madonna d'Europa. Intanto vi ricordo che dopo il telegiornale andrà in odono speciale dedicato al nuovo ospedale di Biella con altre immagini e l'intervista al direttore generale dell'Asda di Biella Gianfranco Zulian e all'ingegnere e direttore del cantiere Paola Melloteggia. Ora parliamo di politica, sempre più verde e meno azzurra, la maggioranza del sindaco di Cossato Claudio Corradino, che dopo i cinque consiglieri di maggioranza del PDL, Franco Botta, Alesso Serafia, Orlando Zambon, Anna Maria Casagrande e Nicola Bianchina, hanno firmato le dimissioni dal partito per confluire nel nuovo gruppo. Un epilogo annunciato da tempo, tra continui strappi e cuciture, e che probabilmente ha siglato ora la volontà del PDL di proseguire da soli e riprendere, a detta del segretario provinciale del partito, lo spazio politico troppo sbilanciato verso la Lega. Nel gruppo PDL dovrebbe rimanere Enrico Trivellato. Dal PDL al PD è tempo di dare nuove idee e proposte, secondo il Partito Democratico Locale, che si è incontrato e confrontato in una giornata intera anche in vista delle elezioni amministrative del 2014. Ma anche in questo caso saranno le primarie ad individuare il nome del candidato a sindaco del capoluogo. Intanto emerge già una rosa di nomi. Nulla di nuovo, dire il vero, si parla dell'ex sindaco di Biella Vittorio Barazzotto e del vice sindaco Diego Presa. Cambiamo ora totalmente argomento. A Biella la bicicletta risulta essere il mezzo più pericoloso, conseguenza anche di alcuni comuni che non realizzano adeguate piste ciclabili. Ce ne parla Laura Martini. Prima era un'ipotesi, dopo la valutazione di Istat, pare essere una realtà. La bicicletta diventa il mezzo più pericoloso, ma in alcuni capoluoghi i tassi di mortalità associati all'uso di biciclette registrano valori più elevati. E Biella è uno di questi. L'Istat, infatti, nel Focus pubblicato sulla mobilità urbana e relativo allo scorso anno, rileva che i tassi di mortalità più elevati nelle città sono riferiti alle autovetture, con 1,76 morti per 100.000 abitanti, ai motocicli 1,50, mentre per le biciclette il tasso è pari nello 0,38. La bicicletta però continua ad essere il mezzo più pericoloso in generale. Sulle strade urbane delle città, capoluogo, i tassi di mortalità per incidenti stradali sono più elevati della media nazionale. A determinare nel biellese questo alto tasso di mortalità associato all'uso della bicicletta sono purtroppo anche alcune scelte discutibili di comuni, come per esempio Sandigliano, che pur essendo attraversate da strade d'elevato e veloce traffico, non ritengono prioritario la realizzazione delle piste ciclabili, che al contrario contribuiscono in modo sostanziale a contenere l'incidenza delle mortalità per le biciclette. Andiamo ora a Pollone, neanche un minimo accenno dei temporali preannunciati ed il meteo è stato finalmente clemente con gli organizzatori della Proloco di Pollone, stremati da lungo impegno e decisamente soddisfatti che hanno dato vita a un'edizione strabiliante di Pollone dal cielo. Tantissima la partecipazione nell'area adiacente all'anificio Piacenza per la due giorni di manifestazione che ha visto al centro il volo delle mongolfiere ma anche degli elicotteri di deltaplani. Grande interesse degli spettatori anche per la mostra Mario e Guido Piacenza, pionieri alpinisti ed esploratori. Da Pollone dal cielo ci spostiamo al grande evento che ha coinvolto il biellese, ossia il Rally Lana, Negri e Coppa hanno confermato la vittoria. Su 84 equipaggi iscritti solo 49 hanno raggiunto il traguardo. Marco Fulcheris. Davide Negri e Roberto Coppa su Porsche 911 RSR sono i vincitori dell'edizione 2013 del Rally l'Anastorico. L'equipaggio è partito forte sin dalla prima speciale, in realtà la seconda in quanto la numero uno è stata sospesa. Negri e Coppa sono riusciti a prendere e a mantenere il comando sino alla fine realizzando sette vittorie parziali sulle nove prove effettuate. Sui restanti gradini del podio si sono collocate le due Porsche 911 SC di Matteo Musti e Claudio Viglieri e quella dei sudamericani Gustavo Trailes navigato da Jorg del Buono. Premiati anche i biellesi Davide Negri, Federico Ormezzano arrivato settimo ed Spurgan Fioramanti ottavo. Grande gara di Omar Bergo navigato da Maria Rita Aglione, vincitori della classifica del gruppo 2 con una Peugeot 309. Con noi Davide Negri vince la terza edizione del Rally l'Anastorico, i biellesi ti avrebbero voluto su una lancia però con la Porsche si vince sicuri. ma qui negli storici sono chiaramente le macchine che in questo momento sono le più performanti. Avrei voluto essere in tante cose però purtroppo la fortuna è arrivata qua e però io sono già contento perché avere già rivinto due volte l'Anastorico e il Rally Round e scrivere il mio nome sull'Albodoro due volte sono più che contento. Senti Davide, ieri ero proprio a Camandona con uno degli ex preparatori di Conrero, prendeva i tempi, diceva Negri, il piede di Negri su queste strade è difficile batterlo. Probabilmente, non so, se avrà detto così sicuramente mi fa piacere perché detto da queste persone che comunque hanno visto il Rally di 30 anni fa arrivare adesso mi fa molto piacere. Con noi Federico Ormezzano, settimo assoluto, con una macchina che chiaramente non può competere con queste Porsche che ti sono state davanti ma ieri ti abbiamo visto passare a Camandona nonostante siano passati 30 anni il piede c'è ancora. Diciamo che a me basta aver vinto la speciale classifica dei quattro cilindri perché avendo due cilindri meno della Porsche la mia gara era contro le altre quattro cilindri. È stata una bella lotta con Iva Pior Avanti, con Giancarlo Risso, con parecchi altri. È chiaro che la mia macchina non è un aereo come questi ma io corro ormai per divertirmi e devo dire che ho ancora una certa voglia di battermi malgrado l'età non più giovane. Senti Federico queste strade sono sempre ancora mitiche come era una volta abbiamo visto anche un folto pubblico forse non proprio sempre corretto in sicurezza però è sempre ancora un successo sta gara sia con le macchine moderne che con quelle meno. Ma sul pubblico spenderemo una parola in favore del pubblico chiaramente qualche testa calda c'è sempre ma il pubblico biellese è molto ordinato e molto rispettoso delle indicazioni che vengono date dai commissari quindi forse all'inizio c'è stata un'interpretazione un po' restrittiva di quelle che sono queste manifestazioni. Poi si è tutto risolto ma la gara sicuramente è una gara molto dura molto selettiva che dimostra le difficoltà che ci sono. Vince la biella è sempre un bel biglietto da visita perché è una gara molto complicata e molto impegnativa. Il materiale raccolto in questi giorni è veramente molto quindi altri servizi andranno in onda nei giorni successivi e domani sera alle 21 uno speciale curato da Marco Fulcheris che riassumerà queste due giornate di grande rally. Ed ora ci occupiamo ancora di sport e lunedì torna la rubrica Terzo Tempo TV con la consueta anticipazione di Andrea Battagin. Sentiamola. Gentili telespettatori benvenuti al consueto appuntamento con TerzoTempoTV.com. Oggi la nostra redazione ha scelto per voi le ultime due partite di calcio a 5 del CSI. Iniziamo con alta biella contro il golosone. Molto impegno per entrambe le squadre e parecchia sfortuna visti i pali e le traverse colpite da ambo le parti. Concludiamo con il panificio patti contro i Black Eagles. Ottima vittoria degli ospiti che espugnano il Pala Verrone per 5 reti a 4. Rinnovandovi l'appuntamento a lunedì prossimo vi auguro una buona visione. L'appuntamento è quindi dopo la sigla di questo telegiornale, dopo lo speciale dedicato all'apertura, alla presentazione del nuovo ospedale di Biella. Io vi ricordo il nostro sito www.retebiella.tv dove troverete tutti i nostri servizi e i nostri telegiornali, il nostro profilo Facebook e il nostro profilo su YouTube dove ritrovare i filmati. Con questo è veramente tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon pomeriggio e arrivederci. Grazie a tutti i nostri servizi e a tutti i nostri servizi.